Ok raga, ultimo giorno, grazie a tutti, chi mi ha supportato, chi mi ha sopportato Mixibox, ghetto blatta, ultima traccia, ghetto blatta in quarantena man Forse finisce domani, forse continua se a moti spontanei Stare con gli altri e fremi piani ma sto calcolando inutilmente Troppe porte, troppe le proteste che porto avanti senza in fondo contare su di esse Mi muovo come se non ci fosse un modo di andare via Di andare via, ok man, penultima testimonianza qui Tutto il ritardo si accumula e non c'è il film che c'era prima, si respira ma l'aria è diversa Finito un viaggio ne fa un altro con ciò che ti resta Certo 68 è un numero di merda per trovarsi a chiudere questa faccenda Tanto terapia quanto in finestretta Ho detto che non mollo ma vi ho detto molto ed è finita la mia agenda Cercami la prossima pandemia, il prossimo stato di clausura dove scrivere di nuove via Fare del nuovo sia per te che per chi si annoia È stato divertente, è stata un'altra storia Beh, facciamo dei ringraziamenti direi Grazie a Dottor Die che ha dato vita al progetto Nonostante le incomprensioni grazie a Jumbo Grazie a Forza Peto Grazie a Lord Boru chiaramente Grazie a Pecetta Grazie a tutta l'armata Platta Leone Quindi a Giulica, Double, Davide, Andrea, Jumpix, Mattia, Cottone, Samu, Stefano, Giulia, Gaia, Anciolina Grazie a Diego e Daniele, ad Angelo e Tonino Al Bru e dei Biomeccani Grazie al Coginetto Gigafrattau e a Nagi da Perugio Grazie a Giulia e Flavia e al caro Giorgio Chiaramente E beh, grazie ad Angelo direi E niente XIVox È stato un piacere amici